Euroregione News Sapori del Carso 2014 Appuntamento con i sapori della tradizione Dal 10 ottobre al 9 novembre, prodotti, ricette e piatti della tradizione locale, mitele europea, friulana e slovena si incontrano nell'ambito della tredicesima edizione di Sapori del Carso L'evento, tramite un gruppo di trattorie, negozi di alimentari, panifici e pasticcerie propone le migliori specialità enogastronomiche e i prodotti tipici del Carso conservando antiche ricette e salvaguardando i sapori della tradizione Il Carso è un territorio che offre una vasta quantità di prodotti tra cui raffinati formaggi, olio extravergine d'oliva, miele e rinomati vini Negli esercizi aderenti all'iniziativa verrà allestito l'angolo del prodotto tipico dove oltre a cioccolato, caffè, dolci e salumi potrete degustare gli speciali menu dei sapori del Carso Nei panifici e nelle pasticcerie dell'Altipiano si potranno assaggiare dolci e pani tradizionali Nei forni di città, invece, i più golosi potranno deliziarsi con i gustosi dolci triestini e mittele europei Quest'anno, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale Sapori del Carso valorizzerà le ricette e la cucina carsica di quel periodo che è stata contaminata e influenzata dai piatti tradizionali dei vari popoli e delle culture presenti sul territorio L'iniziativa è realizzata dagli operatori dell'Unione Regionale Economica Slovena Per l'articolo completo visitate il sito vinoevacanze.it, il supplemento di Euro Regione News Avete ascoltato Euro Regione News